buongiorno eccolo qua l'atteso nuovo numero di zagore yellow rock da stamattina edicola ragazzi io l'ho già letto devo dire che erano un bel po di tempo un bel po di mesi che non andavano edicola di corsa a prendere un albo per leggerlo subito incuriosito dall'atteso finale della storia con jenny di zagor e devo dire grazie che secondo me è una gran bella storia bella bella stavolta fatto centro ha fatto una storia piena di azione di sentimenti chiaramente c'è anche la love story quindi qualcuno storcerà il naso qualcuno andrà bene o no per me ragazzi in alcuni tratti veramente commovente questa storia bella è una storia che lascia il segno veramente da applausi secondo me poi io come dico sempre ognuno ai suoi gusti non siamo tutti uguali ma per noi questa è una storia che rimarrà a futura memoria nella serie zagoriana burattini su me non sbaglia niente non sbaglia niente se uno entra con la mentalità di trovarsi una storia un po fuori dei canoni di zagor nonostante sia azione ci siano avventura e questa love story contorno non si può non apprezzarla non si può apprezzarla perché vi ripeto in alcuni casi si legge la trama con quel brivido con l'emozione che i film o le serie insomma tanti altri modi di intrattenimento ti danno ok non voglio farvi vedere troppo ragazzi vi farò vedere solo alcune tavole iniziali che non dicono niente e la parte la seconda parte della storia di jacob rauk dove comincia la nuova storia di jacob rauk e coppola molto carina l'andremo a vedere un po più nel dettaglio tanto lì non c'è nessun problema di spoilerare finali e roba del genere e poi ragazzi una cosa importantissima da questo mese da settembre nei nostri video ci sarà la partecipazione quando riusciremo quando ci sarà la disponibilità degli autori di avere il one more things cioè la guest star del video gli autori che presenteranno la storia e ci racconteranno qualche curiosità sia i disegnatori che i disegnatori di questa storia che andiamo a presentare in questo caso oggi cominciamo subito con moreno burattini quindi non perdetevi il finale la partecipazione al one more things di moreno burattini ok ragazzi allora la copertina abbiamo già vista piccinelli poi con piccinelli ragazzi abbiamo un progetto insieme ve ne parlerò più avanti ma rimanete sul canale perché ne vedremo delle belle e dice una bellissima copertina di piccinelli secondo me un taglio originale bella inquadratura un bello zagor secondo me una copertina d'impatto come quella di una volta con pochi dettagli cioè il carro e lui che colpisce in oggi guardavo quando il pesa in edicola in mezzo a tutte le testate buonelli altri fumetti insomma si notava bene è una copertina che fa 100 secondo me in quarta rappresentazione gioco più che abbiamo già visto già in edicola dal 20 agosto il secondo di copertina anche qui l'altra pubblicità zagor color bellissima storia con cui ancora di cui ancora si parla ragazzi un color veramente veramente bello ok andiamo a vedere questa storia anzi questo album della storia di genevi ripeto vi farò vedere molto poco nei tamburi darkwood moreno burattini ci presenta la lazzerini lazzerini e jacopo rauc cioè da loro stessi il lascio lo spazio di presentarsi sui tamburi darkwood e sia la lazzerini lazzerini che jacopo ci parla del loro impatto sulla storia che hanno scritto e disegnato tra l'altro jacopo rauc ritira fuori una delle sue prime storie che ha scritto con i fratelli dowler e la prima parte della storia a me è piaciuta perché va bella vedremo dopo ragazzi allora qui incomincia la storia della lazzerini vi ripeto solo qualche tavola da farvi vedere per non spoilerare troppo vediamo che zagora ritrova jenny e la porta subito verso il battello per i soccorsi poi si dedicherà alla ricerca del trafficante d'armi per fermarlo e impedire la vendita delle armi la storia molto bella piena d'azione come vi ripeto ragazzi c'è una parte la parte romantica che è bella toccante lo svolgimento e la scelta che farà zagor su sulla situazione amorosa diciamo insomma è molto toccante diciamo via e poi non vi voglio dire troppo perché se no mi verrebbe da farvi vedere delle tavole che sono meravigliose e non voglio levarvi la sorpresa questo ragazzi è un album che quando lo prendete non sfogliatelo vi mettete a sedere e lo leggete dall'inizio alla fine senza sfogliarlo senza andare a cercare cose perché se no vi rovinate il gusto della continuità nella lettura della storia sapendo già cosa succede adesso fuori onda vado all'inizio della storia di jacopo e di coppola eccola qua e andiamo a vedere un po questa storia i disegni di coppola sono molto molto belli ragazzi molto belli un bello zagor guardate queste belle scene notturne sotto la pioggia sono veramente bella storia è bella intrigante parte subito con questa piccola prefazione del ritorno di dollar lo sappiamo non vi spoiler niente e poi come fa jacopo che ha uno stile molto onolittiano diciamo nella nella scrittura stacca subito dalla scena da questo mini prologo e passa subito al presente diciamo e con una gag di cico molto divertente di qualche pagina guardate ragazzi i disegni veramente belli a me mi sono piaciuti tantissimo guardate questa questa scena comica di cico che scappa senza sfondo come rende bene ok ragazzi qui in alcuni casi vedete a me addirittura mi ricorda in questi campi lunghi un po pignotti una cosa mia e ragazzi però facciamo guardate questo zagor e coppola è piaciuto molto e vabbè la storia poi si svolgerà il si concluderà credo il prossimo mese con questa bellissima copertina massacro numero 738 dal primo ottobre e dove vedremo la fine della di questa storia presumo non mi ricordo ma vi ripeto l'inizio è molto invitante intrigante con il ritorno di uno dei fratelli dowler e vedremo come 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 andrà a finire ok ragazzi allora vi ripeto scusate vi ripeto allora dopo il video il one more things la partecipazione di moreno burattini che da inizio a questa nuova tradizione speriamo lunga della partecipazione nostri video degli autori che presenteranno in un brevissimo one more things l'album che andremo a presentare si comincia con moreno burattini non perdetelo buona giornata a tutti ciao amici sono qua per presentarvi il numero di zagor del settembre 2022 che si intitola yellow rocks dove si conclude la storia iniziata nell'album precedente quella della ragazza in pericolo scritta da me e illustrata dalla bravissima anna lazzarini una storia che ha lasciato per quanto mi hanno detto anche molti lettori tutti con il fiato sospeso perché non sappiamo come si conclude se se si conclude la vicenda a diciamo così amorosa zagora e geni ragazza di present point che gli ha rivelato il suo amore sembra strano parlare di una storia d'amore parlando di zagroba zagro è il fumetto della contaminazione dei generi no ci sono storie di tutti i tipi ci sono storie horror fantascienza umoristiche avventurose dal romanzo storico western e quindi una imparinatura anche di rosa una volta ogni tanto ci sta bene del resto anche sergio bonelli aveva stupito tutti i lettori e con il famoso bacio di frida che succederà adesso fra zagro e geni geni che aprita gravemente mentre zago deve fermare il piano dei repitori che hanno cercato di attirarlo lontano da dar come perché hanno in mente qualcosa mi sembra che scoprirlo sia un motivo più che sufficiente per comprare per acquistare per leggere soprattutto questo albo di zagro dove tra peraltro comincia una nuova storia scritta da jacopo rauch in cui tornano di cui torna un personaggio già conosciuto in passato un serial killer abbastanza feroce bene un saluto a tutti